Cora Conosco Tommaso Paradiso da qualche anno. Siamo diventati amici, abitiamo a un paio di chilometri di distanza. Passiamo spesso l'estate insieme e amiamo il calcio e il cinema senza saper valutare se, come si domandava Renato Carpentieri in carodiario di Nanni Moretti, cinque gol in un Honduras-Belgio siano più importanti di un grande piano sequenza di Sergio Reone. Tommaso scrive canzoni, spesso di notte, mette insieme le parole e poi cerca il pianoforte come l'assetato cerca l'acqua. Suona, compone e mette in musica le sue emozioni facendole diventare quelle degli altri. Lo fa quasi da fermo, senza apparente sforzo. Profondo e leggero. Muovere Tommaso dalla sua abitazione non è molto lontano dall'insultarlo. Si è scelto un'esistenza itinerante, ma quando non è in tournée, la casa in cui abita è il suo palco, il suo camerino, il suo vano. Questa volta ha fatto un'eccezione e si è spinto fino alla mia per raccontarmi i tempi in cui suonava nelle pizzerie e i soldi bastavano appena per la benzina del ritorno. Lui sa che il viaggio è appena cominciato e ancora il candore sufficiente per stupirsene. È molto laico, sa che non è il mio cantante preferito, ma se ne è fatto una ragione. In queste interviste si è raccontato senza filtri, fumando una sigaretta dopo l'altra, saltando sulle nuvole, come in una sua canzone. Io sono Malcom Pagani e questo è Dicono di te, un podcast prodotto da Cora Media e Tender Stories. Tu da ragazzo facevi a botte con le onde. Sì, come mi. Che significa fare a botte con le onde? Ma il mare dà questa sensazione di onnipotenza, spiego. Il mare facilita, l'acqua in generale facilita il movimento che non riesce a fare sulla terra. Per molti magari è una prigione, invece per me era libertà, è tipo l'aria, perché sul mare pesi poco, anzi non hai peso, non pesi nulla, metaforicamente parlando, perché rimani sospeso, quindi ti senti leggero. E soprattutto quando arrivavano queste onde a Fregene, mi ricordo principalmente, che è stata un po' al mare della mia infanzia, con i miei cugini Niccolò e Rodolfo facevamo il karate, il finto karate, influenzato da quei film degli anni 80-90, delle arti marziali. Combattevamo contro le onde che ci arrivavano contro e quindi ci sentiamo fortissimi perché con un pugno potevi spaccare l'onda in due, capito? Quindi sì, facevo a pizze, a schiaffi con le onde. Insieme a loro proviamo i calci, le capriole, quindi il mare in qualche modo ti fa sentire più agile rispetto al peso che abbiamo sulla terra. Se tu ripensi ai tuoi lunghi pomeriggi da bambino, dai 6 ai 12 anni, è più forte il sentimento della curiosità che provai verso il mondo, della noia, della TV come compagna principale di giochi? La TV è stata una delle mie formatrici principali, tant'è che a un certo punto mia madre ha dovuto mettere le chiavi alle televisioni, si inventò un sistema per cui è presente le chiavette con cui si aprono e assicurano quelle specie di catene a booster, come si chiamano, bloster, block... Cioè, quella che noi a Roma chiamavamo criptonite, una catena per il motorino, diciamo. Esatto, esatto, e mise proprio quel sistema di chiusura e apertura sulla parte di un vecchio Brionvega, io avevo il Brionvega in cucina, e mise questa chiavetta che me lo chiudeva così decideva lei quanta televisione potesse guardare. E quindi sì, è stata importante, ma ero... grazie a Dio non mi sono sentito stupido e solo in quella cosa, perché recentemente ho letto un'intervista vecchia di Lucio Dalla in cui diceva che poteva passare anche 12, 24, 36 ore a guardare la televisione ininterrottamente. Sì, adesso no, ci siamo catturati dalle immagini che passano sul telefonino, dai video che passano sul telefonino, prima c'era la vecchia e cara televisione. E non ho un sentimento di... Se provavi noia, per esempio. No, noia no, noia no, non mi sono mai annato un secondo da ragazzino, mai neanche un istante, soprattutto i momenti che avevo di grande pause, del dolce far niente, me li godevo tantissimo. Mi ricordo che, per esempio, svegliarsi una mattina e non avere la scuola, perché magari era iniziato giugno e le scuole chiudevano e potevo stare a letto, a casa, a guardare la televisione, me li godevo tantissimo quei momenti. Insomma, voglio dire, che momento era quello in cui suonava la campanella dell'ultimo giorno di scuola e noi avevamo tre mesi di vacanza, una cosa che è un orizzonte eterno quasi, no? Stupendo, sì, ma era... Ti dico, a un certo punto mi veniva anche, verso fine agosto, quando incominciavano, tipo i vecchi film dei Vanzina, quando incominciavano a subentrare i temporali nelle vacanze, là mi veniva anche un po' la voglia di tornare a Roma con le acquazzoni, con le code, delle macchine, i motorini, i clacsoni, i semafori, le file per entrare a scuola. Quella cosa mi piaceva molto, come immagine mi ha sempre rasserenato, quella immagine di Roma che prova a riprendere la vita di tutti i giorni in mano, quindi... Però certo, quando suonava la campanella l'ultimo giorno di scuola era una grandissima gioia, era una grandissima gioia e soprattutto rispetto a quello che viviamo oggi. I nostri genitori, in generale mi ricordo anche dei miei amici, insomma, dei miei coetanei, ci mandavano subito in vacanza. Adesso la vacanza te la fai agosto, no? Quando diventi adulto la vacanza scatta d'agosto perché fino a luglio, fino a fine luglio, diciamo, siamo quasi tutti impegnati in progetti, lavori. Anzi, continuiamo a lavorare, la gente continua a lavorare. Invece, quando suonava quella campanella, i primi giorni di giugno eravamo già al mare, eravamo già al mare. Tu hai raccontato una cosa molto bella, hai detto che ad agosto, un vero agosto romano, come quello di Carlo Verdone in un sacco bello, il suo film di esordio, girato proprio a Ferragosto, non l'hai mai vissuta. Ma che il fatto di non averla mai vissuta non ti ha impedito di sognarla? No, è vero, ma a volte è meglio anche non realizzare i propri sogni perché, no, sembrerebbe paradossale questa frase, però l'immaginazione a volte, almeno nel mio caso, è più forte della realtà. Quindi la sensazione di quell'agosto non vissuto potrebbe essere più forte di un agosto vissuto, capito? E provare solo a immaginarlo, di trovarsi a Roma in una trastevere calda, desolata, con tre macchine, due militari che, capito, che stanno davanti a un ufficio, con questo caldo secco, perché poi a Roma mi ricordo questo caldo secco alla fine di agosto. È meglio immaginarsi tutto questo magari rispetto a viverlo veramente. Eri un bambino fantasioso tu? Ero un bambino molto fantasioso, sì, sì, facevo tante cose con la scrittura, con l'immaginazione sempre, che poi pare che sia una facoltà, non che io lo sia, però pare che sia proprio la facoltà principale dei filosofi, cioè proprio quella dell'immaginazione. E sì, scrivo un sacco di cose, provavo a spiegare Dio addirittura, mia madre c'è un sacco di cose, di pagine bianche dove ho scritto, dove ho provato a scrivere che cosa fossero gli uomini, che cosa fosse Dio. Inventavo ricette medicinali, sì, sì, no, no, è vero, tipo facevo finta di essere medico, davo delle cure inventate e già lì pure provo a fare delle cose ai fornelli, a volte bruciando cose, a volte no, a volte facendo delle cose schifose, però sì. Diciamo che secondo me la fantasia ai ragazzi della mia generazione non è mai mancata, forse spinti anche da tutto il futurismo presente nella letteratura cinematografica e non degli anni 80 in cui siamo cresciuti, anni 80-90. Certo, Ritorno al futuro immaginiamo questo, no? Esattamente, ETI, Ritorno al futuro, quindi si provavano a dare dei possibili scenari che oggi purtroppo non sono rispecchiati e mi piacerebbe che ci fossero degli alieni con cui parlare oggi, o macchine volanti, cioè questa è stata un po' una mia delusione. L'altro giorno stavo facendo una riflessione con un mio amico, professore di filosofia, e dicevamo, per esempio, parlavamo dell'idea di progresso sulla civilizzazione della società, no? E purtroppo non è che sia tanto alta oggi questa... perché per esempio lui mi faceva notare come il traffico, per esempio, i tempi del traffico si siano allungati rispetto agli anni 70-60. Cioè oggi per arrivare da Roma Prati all'Euro ci metti un'ora e mezza, 40 anni fa ci mettevi mezz'ora, capito? E quindi probabilmente avremmo dovuto anche più puntare su queste cose qui rispetto solo al telefonino, che ovviamente ci ha facilitato un sacco di cose, ma... Mi sembra che la contemporanea, il modernismo, la scienza si sia focalizzata solo su uno strumento e non abbia visto l'insieme. È vero, sicuramente in senso assoluto, ho qualche dubbio sul fatto che Roma avesse dei tempi di percorrenza più brevi, perché mi viene in mente un film che tu hai visto sicuramente, il primo episodio dei mostri di Norisi, l'educazione sentimentare, che tra l'altro pregonizza tutti gli assassini dei genitori con grande anticipo, anche rispetto ai pugni in tasca di Bellocchio. Dove c'è lui che sfreccia, c'è Tognazzi che sfreccia sulla Colombo con lo fazzoletto in mano. Certo, che insegna al bambino come barare sul traffico. Beh, lui, la prima scena è Tognazzi che si fa la barba davanti allo specchio, il bambino gli chiede una monetina per i poveri, lui gli dice questa frase che mi è rimasta in testa per anni, i poveri non esistono, dice Tognazzi. Poi fa salire il bambino in macchina, vanno a fare colazione, il bambino mangia due cornetti, lui ne paga uno e dice papà ma ne abbiamo presi due, lascia stare, lascia stare. E poi gli insegna come superare il traffico con il fazzoletto bianco, insomma gli dà tutta una serie di dettami su come essere furbi e fregare il mondo. E poi alla fine viene ucciso dal figlio stesso che ovviamente ha preso tutte le... C'è anche un altro film sul traffico che in quel momento, vabbè, col boom delle automobili eccetera, era di... Di Comincini, Lingorgo? Lingorgo, proprio. Certo, straordinario, straordinario, con sordi, con sordi. No, però ti dicevo che appunto in questo primo episodio il Lungotever è trafficatissimo, è un altro film, c'eravamo tant'amati dietro la scuola, Gassman fa il parcheggiatore Piazza del Popolo e Piazza del Popolo è un inferno di macchine, quindi non lo so se Roma è tanto peggiorata perché... Un'altra scena del Lungotever, queste scene mi fanno benissimo al cuore, che si vede un Lungotever e una sua magnificenza, l'inizio di... in viaggio con papà, quando sordi va a prendere quella Mercedes grigia bellissima e percorrono il Lungotever fino all'isola Tiberina dove Verdone poi cerca di trovare i suoi amici che lottavano per la sopravvivenza del gabbiano. Stupendo, stupendo, fin credo con la regia dei sordi, mi viene in mente poi il nostro amato Verdone in Gallo Cedrone ipotizza di asfaltare la soluzione al traffico, e qual è la soluzione al traffico? Asfaltare il Lungotever, anzi o il Tevere. Il Tevere perché sto fiume ce serve o non ce serve, io dico che no, esattamente. Senti, magari un po' di noia però provata quando tua madre Nazaria ti mandava a lezione di pianoforte, la prima a sei anni, no? Sì, no, lì soprattutto sulla parte del solfeggio, della tecnica, della didattica pura relativa all'armonia, quindi proprio la musica, la musica da studiare, la musica da studiare per davvero, ecco lì sicuramente non era stata, non era allettante. Tant'è che un certo posto ho pensato molte volte di smettere, no? E anche lo dicevo, però lei mi minacciava ogni volta che tentavo di smettere di suonare il pianoforte, mi minacciava dicendo tu devi continuare a suonare. Non so perché aveva questa... non gliel'ho mai chiesto. Ecco, quello volevo chiederti, non gliel'hai mai chiesto perché ti avesse mandato a lezione di pianoforte? No, lei nei suoi deliri ogni tanto, adesso che ha anche qualche anno di più che si lascia più andare, dice, soprattutto quando è in compagnia e è presa bene, lei diceva io ho sempre voluto un figlio artista, sono proprio un figlio artista e quindi probabilmente mi costringeva anche per questo. Però poi sono passato alla chitarra proprio perché a un certo punto col pianoforte era diventato troppo severo e quindi con la chitarra, diciamo che poi con la chitarra conosci oltre, vabbè, anche lì c'è ovviamente tutto lo studio classico, però poi con la chitarra alla fine incominci a suonare il pop e il rock e quindi dire... No che col piano non si possa fare, però il pianoforte quando ero un ragazzino era proprio lo strumento della didattica musicale. E' il 1993, il 94, forse il 95, a un certo punto, come una folgorazione, incontri il rock degli oasis, non so se da profano posso dire il rock degli oasis, ma sicuramente gli oasis è rock, è rock, e proprio si disvela qualcosa di importante, no? Ma sì, fu un'emozione mai provata, sia prima che anche dopo, guarda c'è una certa nostalgia e malinconia nel parlare di tutto questo perché io sono molto affezionato, e lo dico anche un po' drammaticamente, alle prime volte in generale, cioè la prima volta che ti innamori, la prima volta che dai un bacio a una ragazza, la prima volta che guardi un film che ti ha spezzato il cuore, la prima volta che sei folgorato, la prima volta che vai a un concerto, la prima volta che senti una musica... Ecco, io quell'emozione così forte, così grossa, non l'ho mai praticamente più provata, ho provato emozioni diverse, sicuramente, forti in maniera diversa, ma comunque sempre forti, però ecco la prima volta, perché sei completamente puro, cioè è normale, è come quando, guarda, ti faccio un esempio banale, a Fregene, sempre prima di Fregene, c'era uno stabilimento che si chiama, perché ancora esiste l'Oasi, ed era l'unico, penso sia, forse al tempo era l'unico stabilimento Fregene che aveva un trampolino, e un trampolino abbastanza alto, ovviamente non olimpionico, ma un trampolino abbastanza alto, e ci misi praticamente due giorni per buttarmi da quel trampolino, perché ogni volta arrivavo in pizzo ho sentito questa emozione fortissima, della paura del cadere, del vuoto, dell'aria, sai che succede quando arrivo là sotto, e la volta che mi sono lanciato ho sentito proprio dentro di me una sensazione immensa, non specificabile in qualcosa, ma immensa. La seconda e la terza volta che ti butti non è così, non è come la prima, cioè questo è il punto per tutte le cose. Comunque pensavo a Fregene, c'è quella scena dello sceico bianco, in cui uno dei due dice che l'unica vita vera, l'unica vita adesso vada a memoria, è quella del sogno, e la sua amica risponde è vero, è quella del sogno, ma a volte il sogno è un baratro, che fa pensare ai trampolini, ai tuffi. Tu eri incosciente da ragazzino? Guarda, non è che ero incosciente, in realtà avevo più paura degli altri miei coetanei nell'affrontare le cose, cioè io mi ricordo che ero sempre l'ultimo a tentare il rischio, quindi sono l'ultimo che ha provato a fumare una sigaretta quando ero ragazzino, ero l'ultimo che si buttava da... avevo paura, ma forse più che paura era l'emozione, no? Poi la paura è un'emozione, è una forma di emozione, però sì, comunque cercavo di essere controllato rispetto ai miei coetanei. Poi già da ragazzino mostravo già i primi sintomi della mia vecchiaia, cioè comunque ero il prudente, non mi piaceva andare a sconfinare in luoghi in cui poteva esserci del rischio, non so come dirti, però nella mia comfort zone stavo benissimo e godevo, cioè non è che stavo benissimo e basta, cioè godevo, cioè quando... ho cominciato a subire i primi traumi quando i miei coetanei sono cresciuti prima di me e quindi quando mi invitavano a seguirli nelle scorribbande da ragazzini con i motorini o con le prime cose in cui c'erano le discoteche pomeridiane. Poi io dicevo, ma ragazzi, ma non erano quelli del calcetto sulla spiaggia, dei bagni al mare, delle gite, delle cose semplici, andavamo al Foritalico a correre o a giocare, a far arrampicarci su qualsiasi parete di Roma e invece loro... io non sono mai stato attratto dallo struscio, capito? Dal mondo discotecaro, dal mondo famotard, d'imbriacamose a 14 anni, cioè mi sono imbriagato nella vita, grazie a Dio, ma dopo i 23 anni, cioè sono cresciuto, sono diventato... cioè loro erano già molto più precoci di me rispetto ai tempi, quindi questa latenza l'ho un po' sofferta perché mi rendevo conto di essere rimasto un ragazzino quando gli altri già crescevano, capito? Comunque questa cosa della prima volta che mi raccontavi prima e anche quest'altra legata alla nostalgia di quello che era stato e che era irripetibile mi fa capire che un problema con la sofferenza e con l'essere nudi rispetto alle cose tu ce l'abbia, nel senso che senti di più di altri. La mia sensibilità è la, come si dice, il croce delizia della mia vita perché da una parte mi ha portato a essere un esagerato costante e quindi a scrivere canzoni, a produrre artifici perché poi l'arte, lo dice la parola stessa, è un arte-artefizio, cioè comunque una produzione che viene dalla fantasia anche in questo caso, dalla tecnica ma anche dalla della fantasia, dai mondi immaginabili, quindi la sensibilità ti porta per esempio a vedere le cose in maniera diversa, per esempio uno stesso episodio che accade a te, poi tu non sei la persona giusta con cui fare questo esempio perché sei una persona molto sensibile, però magari lo stesso episodio che accade a due persone può risultare diverso, c'è l'eralevismo in questa cosa qui, quindi per me un evento normale potrebbe essere uno shock, invece per un'altra persona è semplicemente un evento normale. Questo ti porta a scrivere e a fare delle cose, a perdersi spesso, e dall'altro però perché dicevo la croce anche, perché a un certo punto chi sente di più soffre anche di più, così come si emoziona di più. Cioè io mi sento spesso la presunzione di dire che a volte sono la persona più felice in quella serata, cioè nessuno si sta divertendo come mi sto divertendo io, capito? E allo stesso tempo, questo sempre fa parte della sensibilità acuta, nessuno sta male come sto male io, capito? Che ovviamente è una presunzione che viene semplicemente da dentro perché non siamo gli altri, no? E ognuno potrebbe pensare questo di se stesso, però io veramente penso di avere queste valvole molto aperte per cui tutto quello che entra dentro diventa o una grandissima gioia, o un grandissimo danno. In omaggio a quella frase che si dice nella Grande Bellezza, come è triste essere bravi si rischia di diventare abili, tu hai detto che non scrivi quando non lo senti in qualche modo, quando non senti un'esigenza di… Ma sai, questo l'ho scoperto sempre con la maturità, con il tempo, perché poi il tempo e la maturità ci danno il giusto peso di quello che siamo, di quello che… a un certo punto mi sono reso conto che se non sono attraversato da… da grandi sensazioni, episodi, emozioni, finisce perché vado a scrivere una cosa che non ha tanto senso, cioè… poi sono tecniche diverse, ognuno ha la sua, cioè chi si mette… io per esempio ho letto su Woody Allen che dice che… quindi parliamo di un mito, che dice che lui tutte le mattine va alla sua scrivania e non si alza da quella scrivania se almeno non ha scritto una pagina. e quindi c'è chi lavora così, c'erano anche molti miei colleghi che fanno così, nel senso che occupano il loro tempo spesso svegliandosi la mattina e dandosi degli orari per scrivere musica, per comporre. Io ci ho provato per un piccolo lasso di tempo della mia vita, ho visto che non funzionava per niente questa formula, perché poi vado nel manierismo, capito? Invece ho scoperto che poi tutte le canzoni, perché di canzoni in questo caso stiamo parlando che sono penetrate proprio di più, sia in me ma soprattutto nelle persone che le ascoltano, sono quelle che sono nate invece da botte sentimentali, diciamo così, botte emotive, botte proprio da… da grandi passioni, ecco, da grandi passioni, poi in senso negativo o opposivo, l'importante sia a noi. E quindi mi metto a scrivere solo quando è proprio la penna che va da sola, capito? C'è il pensiero che si collega al braccio, che scrive un pensiero. Pochi ragazzi salgono su un furgone, puntano a nord, puntano a sud, puntano non come oggi ai palazzetti, ai teatri o ai grandi consessi di pubblico, ma alle pizzerie. A te è capitato, il furgone si chiamava De Furgone innanzitutto perché si chiamava De Furgone? Perché De Giornalisti De Furgone. De Giornalisti De Furgone. Mettavamo tutto col De in quel momento. Avrei potuto essere più perspicace e intuirlo, adesso senz'altro. No vabbè, ma ci sta, ci sta invece come domanda. E com'era invece? Innanzitutto ci tengo a dire che l'energia che mi esplodeva in quel periodo del De Furgone poteva contrastare anche un asteroide che improvvisamente colpisse la terra. Quindi con questo voglio dire che i chilometri non li sentivo, la stanchezza non la sentivo, le serate davanti a tre persone non le sentivo, non le sentivo, attenzione come, intendo come dire, non le sentivo sul mio fisico, cioè proprio le potevo suonare anche per 14 ore. Consecutivamente ero un esplosivo, era un fascio di energia che si muoveva a destra e a sinistra da nord a sud e non rimpiango nessunissima serata anche di quelle ed erano il 90% andate a puttane si può dire o comunque male. Abbiamo suonato in tantissimi posti davanti veramente a gente che mangiava la pizza e alla quale davamo fastidio se alzavamo un po' di più il volume degli amplificatori. Quindi ho passato tutto questo ma sono stati tutti i giorni incredibili, non ne avrei neanche uno. Poi è chiaro che quando vedi i frutti poi di quella gavetta, secondo me il godimento è il triplo, capito? E con questo non sto criticando chi la gavetta non la fa o chi si trova subito buttato nel successo da un secondo all'altro, però per come è la mia storia ti dico che sono più contento che sia andata così. Quando si chiudeva questa serata ti sentivi come in quel pezzo di De Gregori? Uno scudo bianco in campo azzurro e la sua fotografia, chiunque lo conosca bene può chiamarlo uomo di poca malinconia. Insomma ti sentivi un pianista da piano bar? Ma guarda, alle fine di queste serate ero talmente sfasciato che non facevo riflessioni, cioè perché per dirti, lo sai quando ho cominciato a non sfasciarmi? Cioè quando la gente ho cominciato a pagare il biglietto per venirmi a sentire e in qualche modo dovevo rispettarli per questo. invece quando sei davanti a queste zone nere della musica, della canzone, del tour, quando appunto suonavi praticamente per pagarti la benzina e nient'altro perché non riusciamo a fare nient'altro in quel periodo e c'erano tre persone disinteressate ad ascoltarti e l'unico rimedio era stordirti. traduzione di sfasciarsi. Era, sì, bere, bere per non pensare, bere per non pensare a quello che stai facendo perché lucidamente, poi per carità, attenzione, ognuno reagisce al suo modo, cioè poi c'è chi riesce a affrontare anche queste cose in maniera lucida e io talmente ero passionale in quello che facevo che per non vedere la realtà, no? Per non vedere, cazzo sto ad Ascoli Piceno alla pizzeria Brugrubrax, davanti a delle persone che mi hanno chiesto di abbassare la musica perché c'è un compleanno che stanno celebrando con la torta e le cose e lì ti viene l'istinto o di chiudere tutto ma non potevi, capito? Cazzo sto qua con le chitarre, abbiamo fatto un mazzo così e quindi ti alleviavi le pene e le sofferenze con un po' più di alcol tutto qua. Tra l'altro da Roma a Ascoli, solo una piccola notazione diciamo toponomastica o stradaria, viaria, si arriva ancora come nel Settecento, cioè siccome nessuno negli 80 anni di Stato Repubblicano ha pensato a fare la Trina Adriatica, Ascoli è una città bellissima in cui Giuseppe Piccioni girò il grande Black e il cito Maselli ambientò i delfini con Claudio Cardinale, vado a memoria, spero di non sbagliarmi, è impossibile arrivare, cioè Ascoli è una strazione, non esiste in qualche modo, è lì, lontana, bellissima, una piazza incredibile però di difficile raggiungimento. Ecco a questa cosa non ci hai mai pensato, cioè a questa cosa che hai detto tra le righe, mollare. No ma sai c'è stato un momento in cui ero veramente spaisato e il mio corpo probabilmente la mia mente hanno reagito spontaneamente a questa cosa che ti sto per dire, cioè esce un disco, il primo, che si chiama Volume 1, che è un disco che in qualche modo accende proprio nell'estremo profondo confine della musica indipendente accende una piccola luce sui giornalisti. Quindi vuol dire che un disco in qualche modo incominciano a uscire i primi articoletti nelle riviste di settore, nelle cose, con qualche canzone buona che ancora oggi la gente magari più appassionata richiede, i concerti. E quindi questo disco ci permette anche di fare un tour, un tour per modo di dire, nel senso che abbiamo fatto un sacco di dati, come dicevo prima, spesso anche magari non pagate o non pagate bene o comunque con i soldi per cui chiediamo veramente un rimborso per il viaggio, per la benzina, per avvitto alloggio. Però questo disco ci ha dato modo di essere considerato in qualche modo, cioè ti vedo a dire, esistono questi qua. E poi presi da questo entusiasmo, perché ci bastava veramente poco per accendere gli animi. Andiamo subito a registrare il secondo disco che chiamammo Vecchio. E questo disco fu forse la cosa più floppante, floppata, più grande flop, cioè neanche, dimmi un film che tu sei... Non so, il primo Dune, ecco. Non so, dimmi un film che proprio, non so, ha fatto 0,1 lira al botteghino, ecco quello è stato Vecchio, cioè un disco che abbiamo forse regalato ai varianti amici, che saranno comprati veramente... Chi ce l'ha oggi vale tipo un miliardo, cioè anzi faccio un appello a chi ha questo disco, ha tutto lì vinile, chi ce l'ha ragazzi tenetelo perché vale un milione di euro. Titolo? Vecchio, vecchio. Vecchio, vecchio. Tu ce l'hai? Io manco ce lo penso, forse mia madre, c'era un paio di copie. E fu talmente un flop che noi dicevamo, vabbè, noi ripartiamo con queste date, col tour, invece non ci chiamavamo nessuno a suonare, perché il disco non era per niente piaciuto a nessuno, né alla critica, né alla gente, a niente proprio. E allora lì andai appunto, come dicevo, in protezione, cioè stavo a casa e invece di dire mollo, questa è una cosa che mi è venuta, ho cominciato a scrivere di più e mi sono venuto tutte le canzoni che poi mi hanno portato a fare poi tra virgolette il successo, cioè quindi da quel terribile fallimento il mio corpo e la mia mente si uniscono e reagiscono in maniera molto spontanea, senza premeditazione, senza pensiero. E incomincio a stare a casa come se non fosse successo niente, incomincio a scrivere fine dell'estate, promiscuità, preteggi questo duro a cabra, insomma e cominci a scrivere le canzoni che poi hanno fatto la differenza nel tempo. Hai detto che non hai mai creduto all'idea che il successo ti involgarisca, cioè tu sostieni che in fondo il successo, se tu hai delle basi, ti lasci nella stessa zona o quasi in cui ti aveva scoperto nei giorni in cui facevi sondri o terracina col di furgone direttamente. Allora ti dico la verità alla quale puoi anche non credermi, però te la dico, secondo me io non l'ho proprio, io non l'ho fatto, cioè mi spiego. E ne parlo tutti i giorni con chi mi sta vicino, cioè io non, io lavoro per il successo, cioè no, no, io non lavoro per il successo, lavoro tutti i giorni affinché le cose vadano meglio, ecco. E non mi sento mai arrivato, neanche per un secondo, e non mi sono mai sentito per un secondo arrivato, c'è uno che dice ah sono, finalmente sono un qualcuno della musica italiana, no, zero. Io vivo con la costante impressione che debba fare sempre qualcosa di più e che c'è sempre tutto da meritarsi ancora. E quindi se tu mi dici ah ma cacchio ma ci sono i numeri che ti dicono che tu hai fatto questo, sì però questi numeri nella mia testa non esistono, cioè io credo che, cioè John Lennon sia uno di successo, capito, Beethoven sia uno di successo, Magnum Morricone, Picasso, Fellini. Io credo che, ecco, sì, ho avuto, sì, poi se ti chiedono una foto per strada io sono contento, ma secondo me non è quello il successo che ti voglio dire. Se ti pagano tanto per fare dei concerti o per fare dei dischi sono contento, anzi bacio tutti i giorni per terra che succedano queste cose, ma non mi sento come uno, capito, che è di successo, cioè il successo lo vedo un'altra, altre cose. Cioè, capito, sono in costante apprensione tutti i giorni perché non mi sento mai seduto su quello che ho fatto, guarda lì, guarda qua. Tanti hanno appesi, i miei colleghi, giustamente, giustamente, anzi, hanno appesi dischi d'oro, platino, cose, premi, io ce l'ho tutti sotto terra, tu sei venuto un sacco di volte. Posso testimoniare che sono accanto a dove beve il cane? Sì, sono proprio, sono appena la cuccia del cane, ma nel nome, nel senso che non è, per me è tutto, penso sempre al dopo, al domani, a quello che devo fare, alle canzoni che devono arrivare, ai nuovi dischi, ai nuovi concerti, sono costantemente proiettato nell'avvenire, per l'avvenire, capito? E la traiettoria di quello che stai facendo ti piace? Assolutamente sì, questo è una cosa che, grazie che me l'hai chiesto perché sono estremamente soddisfatto di quello che sto facendo e con tanta coscienza, soprattutto rispetto a prima, dove tutte le cose accadevano e capitavano, quasi come se fossero degli asteroidi o degli atomi che cadono sulla terra, capito? Con tanta coscienza sono molto contento di quello che faccio, mi occupo molto più personalmente di quello che devo fare, delogo molto di meno, anzi quasi per niente, anzi forse il 99% di quello che succede passa prima da me, ho molto più cura delle cose, mi piace, sono molto soddisfatto di tutta questa crescita che gira intorno alla mia carriera, la mia musica. Coincide con un momento questa consapevolezza, questa voglia di curare le cose che fai? Ma coincide con il fatto che le persone cambiano e sono bene, cioè mi rattristerei non poco se mi guardassi allo specchio e dicessi a cazzo sono veramente quello di vent'anni fa, questo non mi piacerebbe, invece mi guardo lo specchio e magari anche bestemmiando, magari anche mandandomi a quel paese, sono contento di essere una persona sui giorni diversa, in evoluzione, nel bene e nel male, quindi posso essere anche magari sotto certi punti di vista peggiorato e per altri migliorato, ma è giusto che ci sia un cambiamento, ovviamente come in Peter Pan, in Hook, anzi il film è meraviglioso, quando a un certo punto il ragazzino guarda Peter ed è l'unico che lo riconosce, nonostante fosse Robbie Williams, invecchiato, non sapeva volare, era praticamente un cadavere rispetto a quei ragazzini, è l'unico che cresce, in quel film avrà 60 anni e c'è questo bambino che a un certo punto gli tocca la faccia, gli zigomi gli occhi, lo guarda bene sulla fronte e dice Peter, cioè riconosce quel bambino lì, quindi questo che ti voglio dire è che sicuramente dentro di me rimane un'identità fissa, legata a quello che sono e che nessuno non potrà mai cambiare e cancellare, però c'è anche il cambiamento, quindi è un me stesso che rimane, che c'è una parte di un DNA che è quello, sia spirituale che mentale, però poi la vita ti porta, grazie a Dio, anche a essere diverso rispetto a quello che eri ieri. Sei nato quando i giochi elettronici si chiamavano Atari e lo schermo di un campo da tennis era diviso da una linea bianca su uno sfondo nero, con due palline che andavano da una parte e dall'altra, ti ritrovi nell'età in cui forse non siamo ancora arrivati al teletrasporto che sognavi, ma già si sogna di fare Sydney e New York in due ore passando lì per spazio e per la prima volta hai un 4 davanti alla tua età, cioè che significa essere arrivato a 40 anni? Innanzitutto ti dico che mi sono portato avanti perché sono 5 anni che ho 40 anni, quindi mi sono portato avanti, mi abituo. Quando ho fatto 40 anni il 25 giugno ho iniziato a dire che ne ho 45. Così ti abituo, la cosa è meno drammatica. Poi sai, c'è quel 4 davanti, ma io banalmente il 4 è il mio numero preferito, quindi questo è già una cosa che per me è già tanta roba, cioè io preferisco il 40 al 30, so che dici sei pazzo, però al 30 mi sentivo già più, al 30 mi sentivo veramente vecchio, cioè dico cazzo, i 20 sono passati, allora lì è il grande trauma, il 20 è passato, invece il 40 si inizia a fare sul serio dai, il 40 mi dà una grande spinta, si inizia a fare sul serio perché sei un uomo, tutti gli effetti, proprio uomo, è bello, sono un uomo, ho questo, quello, ho fatto la famiglia, le cose, le case, i cani, gli amici, i rapporti, buonasera, buongiorno, bellissimo, però hai tanta energia ancora, cioè secondo me i capolavori escono fuori dai 40 insomma. E tu conti di scriverli? Io conto di scriverli sempre, ma io ogni volta che mi chiedono ma la canzone più bella, che hai fatto, che hai scritto, quale, a parte che non si fa mai una classifica, nel senso che le classifiche le devo fare che li ascolta, cioè Malcolm mi diceva, per me, che ne so, Lupin è meravigliosa, oppure io non le posso fare perché è come decidere tra figlie, non si possono fare figli e figliastri, quindi sono tutte piazze Corea, però ogni volta però rispondo che sei sempre l'ultima, perché l'ultima è quella che l'hai scritta perché vivi in questo momento esatto e quindi è quella alla quale sei più affezionato in questo momento, perché l'ultima parla di te adesso, capito, in qualche modo. Quanta autobiografia c'è nelle tuoi canzoni? Ma tantissima, quasi praticamente tutta. A volte il mio errore è quello di essere troppo prosaico e poco poetico, perché a me piace la prosa quella netta, chiara, onesta, molto precisa e sono uno che ama poco i fronzoli poetici quando diventano soprattutto artefizi e quindi figure retoriche e bla bla bla, però ogni tanto quando inserisco qualche cellula poetica non mi dispiace, però ecco, io sono per la prosa, proprio, sono per Hemingway alla fine, capito? Il mare c'è sicuro nella tua biografia. Spesso accade che racconti i video degli altri, ma sono gli altri che vivono intorno a te, capito? Senti, in Midnight in Paris c'è un grande apologo sulla nostalgia, no? Madonna. Potrebbe dire che è quasi un film sulla nostalgia. Sì, lo è. Che cos'è per te la nostalgia? Bisogna differenziare il passatista dal nostalgico innanzitutto, la nostalgia è un sentimento vivo, presente, attuale, che fa scrivere, che fa agire anche in qualche modo, quindi la nostalgia non è un guardare passivamente il passato e dire oddio, come guardare un fiume che è morto, che va a morire in mare non esiste più, cioè la nostalgia è presente, fa crescere, è attuale, non è molta e sepolta la nostalgia, ed è una magia in qualche modo. Guarda, ti dico una cosa che mi è successa qualche giorno fa e volevo scriverci un pezzo, non un pezzo, una canzone, proprio, volevo scriverci un testo da mandare su WhatsApp a dei miei amici, forse probabilmente te l'avrei anche mandato a te. Vedevo Sapore di Mare. Immortale, capolavoro dei fratelli Vanzini. Perché devi sapere una cosa, che ultimamente sto vedendo tutti i film nuovi, belli, mi sono piaciuti, film che mi piacciono tantissimo, mi sono piaciuti, mi sono visto adesso ultimamente Ayr di Ben Affleck, mi sono visto The Febbelmans di Spielberg, sono trovati meravigliosi tutti e due, ma poi sto vedendo anche cose, perché poi la gente pensa che io vedo sempre cose prodotte prima del 1983, no, non è così, cioè io vedo cose molto contemporanee e poi vedo, ma quando vado a dormire, cioè prima di chiudere gli occhi, come i bambini hanno bisogno della ninna-nanna della madre, io ho bisogno delle ninne-nanna e dei film che mi portano nell'alveo familiare. E quindi, anche se l'ho visto i 350 volte, mi fanno proprio chiudere gli occhi e dormire sereno. E' uno di questi è Sapore di Mare. E siccome ero anche un po', ero emozionato molto quella sera, ho passato una bella serata con la mia fidanzata, con degli amici, ho bevuto bene, ero preso proprio bene e vedevo queste case di Sapore di Mare, soprattutto la casa dove va ospite Virna Lisi, vedevo sti quadri, sti marmi, sti mattonelle, l'arredamento, ho provato un sentimento di no, però mi ha fatto sentire bene, cioè nel senso, non era nostalgia del dire, ah guarda quella cosa sta lì e fissa lì e non vive più perché è morta lì, no, era presente, stava comunicando con me, cioè quell'arredamento, quella casa, quel giardino, quell'innaffiatoio così borghese, quei capelli, l'apparecchiettura di quel tavolo, stava comunicando in quel momento estamente con me e tant'è che a un certo punto ho detto, ah vedi, mo posso andare a comprare sto mobile e me lo metto a casa, non è che sarà la casa del 1982, ma è un mobile che vive oggi nella casa del 2023, capito? E questo non è passatismo? Questo non è passatismo signori, questa è la storia che vive, che continua, non c'è un prima o un dopo C'è continuità, sono d'accordo, quanto è stato importante l'istinto per te? L'istinto è fondamentale, non sono molto bravo, allora sono molto bravo sull'istinto per quanto riguarda le canzoni, quindi quello che produco, quello che faccio, c'è nel senso che la prima botta di scrittura parte dall'istinto e spesso questo avviene la notte e il giorno lucidamente lo metto in bella, cioè metto in bella una cosa magari sporca, ruvida, grezza, sgrammaticata che mi è venuta di notte, sia per quanto riguarda il testo che riguarda la musica. A volte sbaglio su delle persone, cioè ecco ci sono delle persone che mi sono vicino, alle quali voglio molto bene, che per esempio istintivamente sono molto più forti di me nel capire delle cose, invece non ho un grandissimo istinto nel giudicare per la prima volta, per il primo o secondo una situazione, una persona, una roba. Esteticamente me la cavo invece, cioè esteticamente per esempio l'altro giorno ho ordinato un letto su un catalogo di tantissimi letti, passavano sul computer, stavo in questo negozio di arredamento e passavano migliaia di letti, su un certo punto ho bloccato lo scritto, eccolo, è questo qua, cioè avevo visto che quello era il letto che volevo, quello per me è istinto. Beh anche conoscenze dei tuoi gusti, conoscenze di quello che ti assomiglia, ma mi interessava un aspetto, non sono molto bravo, dici, al primo sguardo a capire che ho davanti, però al tempo stesso questo è un grande indizio di fiducia nei confronti degli altri, tu tendi a fidarti degli altri. Tendo a fidarmi, tendo a non vedere l'oscurità che c'è in tantissime persone, ho preso delle delusioni come tutti quanti ovviamente, però ecco mi reputo fortunato nel senso che preferisco essere tra virgolette fregato ogni tanto a prendere delusioni rispetto a quelle persone che invece dal primo achito invece calcolano già che quello è giusto, quello è sbagliato, quello è fidati che è così, ecco preferisco invece parlando di partire fiducioso e poi magari ricevere una delusione dopo che invece già da avere una soluzione davanti dopo la prima stretta di mano, il primo abbraccio, i primi segnali di fumo. Cioè la prensione ti piace artisticamente ma non ti piace nella vita di tutti i giorni, non ti piace essere allerta? No, 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 esatto, bravo. Anzi cerco di fuggire dall'allerta perché appunto l'allerta c'è in tante cose e quindi della mia vita, quindi rispetto a quelle cose in cui l'allerta è presente preferisco levarla quando invece mi posso rilassare. Quando sei deluso soffri o ti passa presto? No, mi passa presto, mi passa presto, questo devo, penso che sia anche dato da una prospettiva sulla vita direi ottimistica, ottimista, non guardo a ieri, guardo a domani, anche da una giusta secondo me componente egoica nel senso che, su chi fa il mio lavoro così, cioè nel senso ok, però posso contare su me stesso, quindi mi hai fatto così ma comunque ci sono io e io conto su me stesso e posso andare avanti e quindi queste due componenti c'è uno sbagato ottimismo, un sano ottimismo oppure anche un illuso ottimismo, passatomi anche dalla famiglia se vuoi eccetera eccetera, ha una componente di fiducia su me stesso, mi portano ad essere meno deluso rispetto anche a delle delusioni che ho subito. L'illusione è una cosa bella, nel Candido di Voltaire il personaggio è nudo rispetto al mondo, poi avrà tempo per ferirsi, però chi giudica l'illuso è molto peggio dell'illuso. Ah, sì sì. No, chi dà del coglione all'illuso in fondo è molto più antipatico dell'illuso stesso. Ma io poi mi permetto di dire questa cosa a chi vorrà ascoltarci, cioè ti conosco ormai abbastanza bene, io posso dire in maniera molto genuina e poi mi conosci, non ho tanti vocaboli nell'arco del mio lessico, noi siamo due bonaccioni, è viva così, alla fine ci sorridiamo, ci guardiamo negli occhi, siamo emozionati, fateci vivere con un po' di poesia, con un po' di anche di non curanza delle cose troppo materiali, alla fine siamo due persone che possono anche essere un po' presi per il culo, ma a noi ci va bene così. Ti vorrei baciare in fronte se non avessi questo cappellino con la Ypsilon. Di Yellowstone. Di Yellowstone. Senti, c'è qualcosa di cui sei geloso, di cui non parli mai, di cui vuoi tenere solo per te? C'è una zona, stante il fatto che un cantautore, che non so se la parola ti ripugna o meno. No, no, anzi. Ti piace il cantautore? Sì, sì. Già dà qualcosa, restituisce qualcosa di se stesso, nelle cose che scrive, c'è qualcosa invece che è proprio solo tuo e basta. Bella domanda, non ci ho mai pensato. Pensa che è bella, non c'è neanche una clessidra come quando devo consegnare i compiti al liceo, cioè puoi prenderti tutto il tempo che vuoi. No, ma sicuramente c'è, beh, cavolo, una sfera di intimità la teniamo ovviamente solo per noi, ma proprio per questo motivo la domanda è tautologica perché se ti dessi una risposta non sarebbe più un segreto oppure una cosa che tengo solo per me. Ma non solo stai facendo un lavoro su te stesso di rigore, ma sei diventato un vero filosofo come il professor, si chiama Caradonna? Caradonna. Caradonna sarebbe orgogliosissimo di te, era il tuo professore di filosofia al liceo. All'università però sì. Vabbè. No, no, va bene, bene. All'università? Sì, sì, no, lui era il mio professore di storia di filosofia antica all'università, mentre il professore del liceo di filosofia si chiama Michele Cataluddi, che non l'ho mai citato, oggi è la prima volta che l'ho citato. Non l'hai mai citato perché? No, no, è bellissima persona, anzi se fosse stato per lui magari non mi sarei neanche scritto all'università, a filosofia. Senti, Dostoevsky dice che non è possibile creare della buona letteratura senza sofferenza. Quanto sono importanti per te malinconia e tristezza nella scrittura? Guarda, una volta andai a Parigi, tanti anni fa, e andai a una mostra, era proprio una mostra dedicata alla malinconia, dove c'erano quadri meravigliosi, cioè quindi una raccolta di quadri che hanno fatto la storia dell'arte moderna e contemporanea e passata, antica, insomma, vabbè, insomma, roba grossa, e poi alla fine vendevano questo libro bellissimo che comprammo proprio sulla malinconia e lessi un po' di pagine di questo libro e c'era scritto che pare che la malinconia sia scientificamente l'unica sostanza, perché poi la paragonavano una sostanza che produce proprio il cervello, prodotta nel cervello e prodotta dal cervello, che possa permettere agli uomini di produrre arte. Quindi, e questo non vuol dire che siamo attraversati solo da sentimenti malinconi, cioè senza la tristezza e la malinconia, che poi sono due cose diverse, ma non si possono produrre, cioè la malinconia può produrre anche opere, chiamiamole così, felici, gioiose. Pare che sia proprio il sentimento degli artisti, cioè il sentimento degli artisti che ti fa produrre l'arte e la malinconia, quindi in qualche modo mi sento molto vicino a questo pensiero. Però è molto difficile costruirla in vitro, no? O ce l'hai dentro o è complicato, diciamo, inventarla. Sì, beh sì, fa parte sempre di quel discorso relativo alla sensibilità con cui abbiamo iniziato la nostra chiacchierata. Hai detto in un'ipotetica, diciamo, scala dei peggiori difetti altrui che l'avarizia è quello che ti allontana di più dagli altri. Ho un problema, sì, ho un problema. Guarda, tollero quasi tutte le persone, anzi tutte, quindi anche quelle che vanno a genio, però una cena ce la fai così e va bene. Mi piacciono anche i difetti degli uomini perché senza di quelli saremmo veramente delle bestie. Però l'avaro, il tirchio, non so perché forse per mia formazione o per… non riesco proprio ad avere a che fare con le persone così, proprio con quelli che contano tutto, tutto dal materiale al non materiale. Supercalcolatori, sì. Quello che si tiene, che si tiene, che accumula, che non ha mai, che non fa mai il gesto. Anche guarda, banalmente, io ti giuro, conosco delle persone, delle quali mi sento dire di essere anche amico, che da quando le conosco non hanno mai pagato un cazzo di conto al ristorante. O vanno, si assentano, vanno al bagno, si inventano una scusa, non ci sono, vai sempre… tu poi arrivi alla cassa dopo, ti guardano che sei andato alla casa. Ah, ma stavolta votevo… no, vabbè, questo è ovviamente un esempio banale, però si può allargare questo esempio molto banale a temi più aulici, però fondamentalmente sì, è un problema con le persone tirchiavare. Una cosa che ti volevo chiedere, no? La notte benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Dormi poco, tuo malgrado, ti svegli presto. È un momento di creazione la notte? La notte è il momento in cui sicuramente, essendo molto più rilassato rispetto al giorno, diciamo che durante il giorno mi occupo della parte razionale della mia vita e nella notte faccio invece uscire tutta la parte dionisiaca, chiamiamola così, sentimenti, le impressioni, le paure, le angosce, la gioia, la felicità. Diciamo che la notte la dedico più, diciamo, allo spirito. Il giorno invece mi prendo cura delle ferite lasciate dallo spirito durante la notte. Hai detto anche che i sogni sono dei grandissimi figli di puttana. Sì, e ti spiego perché. Perché a parte che ognuno di noi fa i sogni in maniera ovviamente diversa, nella mia vita i sogni hanno un peso veramente grosso, perché faccio dei sogni molto pesanti, e per pesanti non intendo dire solo angoscianti, anzi sono anche molto belli alcuni, molto tristi altri, molto profondi. Sono sogni che mi rimangono sulla pelle anche giorni e giorni. Io ho dei sogni che ho fatto anche da ragazzino che mi ricordo come se fossero adesso. Sono stati proprio delle maschere che sono state sempre davanti alla mia faccia tutta la vita. E perché sono dei figli di puttana? Perché sono talmente profondi talmente significativi che a volte sono talmente grandi che ti portano a... che sono quasi più forti della realtà. E quindi a volte non hanno corrispondenza nella realtà. E quindi quella cosa che hai sognato vive solo nel sogno. Però era bellissima, era stupenda, era travolgente, era incredibile. E ci ho scritto anche delle canzoni su dei sogni che ho fatto, perché erano veramente, come dicevo, molto profondi, vicini, presenti. E quando la realtà invece non corrisponde al sogno è un'inculata. Lo sogni mai tuo padre, per esempio, che non è mai conosciuto? Allora, qualche volta mi è capitato di sognarlo. Non recentemente, dico la verità. Però, e questa è una cosa che ho anche sempre detto a mia madre, le volte che l'ho sognato incredibilmente, l'ho sempre sognato in maniera positiva. Cioè, quindi non era... sai, io non l'ho mai conosciuto, insomma, l'ho vissuto con me, con noi, con mia madre per pochi mesi, dalla mia nascita. Però quando l'ho sognato, anche da adulto, insomma, da persona senziente, era bello. Era bello, nei sogni era accogliente, era piacevole starci vicino, era un buon padre, gli volevo bene. Poi parliamo appunto di una figura che non hai mai conosciuto, quindi è strano pure fare tutti questi sogni, cioè fare questo sogno, quindi proiettare fondamentalmente, proiettare una cosa che non hai conosciuto. però evidentemente, chissà perché, ho sempre sognato quelle due o tre volte che l'ho sognato, ho sempre sognato un buon padre, ma io non ho mai avuto l'incubo di, ecco, ho sognato mio padre, cattivo, che se n'è andato, è sparito, mi ha abbandonato, ho abbandonato mia madre, era una persona così e così, però no, invece l'ho sempre sognato, ho sempre proiettato su di lui, nei sogni, immagini positive, una presenza positiva. Tu hai scritto una canzone su una serie di padri immaginari che hanno segnato la tua crescita ed erano figure appartenenti al cinema, alla fantasia, al sogno. Quando tuo padre ha cercato di contattarti attraverso un mezzo moderno come un social network, tu non hai voluto fare il passo successivo, no? Sì, non ho voluto fare il passo successivo perché, ma sarebbe stata, secondo me, forse una, allora, prima di tutto una mancanza di rispetto nei confronti di mia madre, che insomma un figlio sarebbe cresciuto con tanti sacrifici. E poi mi sono voluto anche un po' proteggere, quindi è stato anche un po' un atto egoistico, cioè nel senso, io sono un grande fan, sai, tu mi conosci, sono, spesso ricorro a un espediente che è la leggerezza, che mi ha aiutato tantissime volte nella vita e l'ho conquistata piano piano, cioè non è che ti arriva così, c'è il sereno, la leggerezza è una, la leggerezza è una dote che pochi di noi hanno e quei pochi che l'hanno veramente sono fortunati. Perché mi collego alla leggerezza di mio padre è che non sono voluto andare in profondità in questo schema, perché volevo proteggermi e ho detto è andata così, sono contento così, non c'ho bisogno di andare oltre a questa cosa che già conosco, che già so che è andata così. Il grandissimo capolavoro di Umberto Eco in nome della Rosa, che parla di un libro, fondamentalmente di un libro mai arrivato a noi posteri, di Aristotele, che pare che Aristotele avesse scritto questo libro che è la commedia, che la Chiesa privò perché attraverso il saper ridere, il sapersi prendere poco sul serio non avremmo più paura di nulla, neanche di un Dio, neanche del diavolo. E questa per me è la leggerezza e la grande potenza dell'ironia, dell'autorionia, della commedia, del saper leggere alcune situazioni attraverso proprio anche banalmente una risata, un prendersi poco sul serio. Ecco questa per me è un grandissimo dono che hanno gli uomini e quel libro in qualche modo racchiudeva questo concetto. C'è una grandissima poetessa russa che si chiamava Rina Shvaitaiva che scriveva con leggerezza pensami, con leggerezza dimenticami. Ecco, tutto qua. Tutto qua. Tutto qua. Dicono di te è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Tender Stories. Io sono Malcom Pagani, la cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Le registrazioni in presa diretta sono di Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo. L'editing audio è di Lucrezia Marcelli. Grazie. 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 Grazie.